sono le 13 e 36 circa 13 e 36 37 37 per essere precisi siamo collegati in diretta manca circa un'ora meno di un'ora per iniziare la diretta di articolo 21 c'è un gran casino in merito al territorio lo dico anche per gli amici intanto buon pomeriggio buongiorno buon tutto a tutti i miei amici che ci seguono e ci stimano c'è una sorta di crack session in merito ai lidi balneari a quello che sta succedendo per quanto concerne le concessioni le concessioni dei lidi oggi tratteremo l'argomento proprio questo qualcuno è contrario qualcuno è a favore qualcuno dice che sono diventati padroni delle spiagge spesso non danno spazio alle persone che vogliono liberamente entrare in spiaggia cosa ne pensate in merito a tutto quello che sta accadendo è quello che noi tratteremo oggi chiameremo i responsabili dei lidi pensate che i lidi in italia sono 6830 840 lidi in tutta italia solo in calabria abbiamo 537 lidi ecco molti dicono di essere padroni di niente perché sono delle concessioni che oggi mettono in discussione con il 2024 molti potranno partecipare ed eliminare queste concessioni cosa pensate voi qualcuno dice che paga all'anno 2500 ore di concessione che è un prezzo ridicolo di fronte a quello che sono spesso per qualcuno che critica i guadagni ora calcolando le zone come riccione come rimini come milano 2 voglio dire tutto quello che accade in quelle zone dove veramente non ogni spiaggia ci sono solo lidi e non c'è la parte libera dove fare un bagno qualcuno ha approfittato qualcuno ha esagerato e allora voi che ci siete siccome noi faremo la trasmissione tra poco alle 14 30 e ci potete seguire anche attraverso lo streaming www.calabriotv.it clicca guarda la tv alle 14 70 precise potete guardare la trasmissione la domanda che dobbiamo fare ai responsabili regionali nazionali legati a questo settore asso baleare che è una delle associazioni più grosse nel territorio qual è la domanda che vorreste fare è giusto così è giusto mettere nelle condizioni chi ha fatto degli investimenti e oggi questi investimenti probabilmente li perderanno nel 2004 mettendo di nuovo in discussione le proprie concessioni allora ai amici che ci seguono tutti quelli che sto vedendo in questo momento quelli collegati condividete se volete dite la vostra e noi tra poco ci colleghiamo volevo ricordare agli amici di facebook che ci sono due profili falsi uno che si chiama lino polimeni dove ha completamente rubato l'identità di lino polimeni l'altro invece lino polimeli con la l quello di lino polimeni ha 35 follow e riconoscibile è un falso è in inglese scritto ci sono delle fanno delle promesse case in florida in america quindi attenzione lo dico gli amici che ci seguono che hanno rubato l'identità due profili al lino polimeni quindi non sono io attenzione a quello che fate quello che vi richiedono so che chiedono carte di credito soldi è una sorta di cuore matto cuore dolce perché praticamente questo tenta di conquistare le povere donne da sole isolate in alcuni territori anche con una certa anche culture diciamo che fa discutere anche come non si fa capire che è un profilo falso e addirittura alcuni calabresi hanno accettato anche la richiesta di amicizia e hanno messo anche il follow per seguirlo quindi attenzione a queste due pagine false una è lino polimeni con vede 35 follow e l'altra è lino polimeli con l finale una cortesia se potete farlo scrivete a facebook e dite che quello è un profilo falso specialmente chi è amico nelle mie pagine segnalando queste pagine false grazie anche perché ci sono le mie foto la mia immagine anche le foto del bambino buona 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 visione grazie di cuore noi ci vediamo domani per quanto riguarda facebook in diretta alle 14 30 con articolo 21 grazie a tutti voi e poi parleremo di altro ma questo è l'argomento che in questo momento tira per il problema che vivono i libri balneari ma non solo la grande crisi la grande crisi io sto arrivando come sempre in giro dal territorio l'autostrada salerno leggio calabria o quella del mediterraneo è completamente deserta perché non viaggiano né merci né gente gli autogrill sono completamente vuoti ed è un disastro per questa economia per l'economia calabrese perché se non girano mezzi e non gira merce vuol dire che è veramente tutto fermo grazie buona visione e condividete il video grazie